Chi è OSS? OSS si traduce come operatore socio-sanitario che è una figura professionale che lavora nell'assistenza sanitaria pubblica o privata. Nel nostro caso lavora con equipe multidisciplinare, medico, infermiere, fisioterapista, psicologo, i volontari e quindi facciamo parte anche noi dell'equipe. Il ruolo dell'OSS in particolare è rivolto all'accudimento della persona e alla sua igiene, alla vigilanza delle norme igieniche dell'ambiente dove vive e quindi il compito è di aiutare il paziente nella vestizione, nella movimentazione, nell'alimentazione. È una figura di supporto comunque con infermiere e con le altre figure dell'equipe. È estremamente anche importante la figura dell'OSS per relazioni con il paziente, perché bisogna entrare anche in empatia con il paziente cercando di capire le sue necessità e quindi bisogna essere anche, che stiamo molte volte, possiamo essere il tramite tra il paziente e le altre figure professionali che collaborano nell'assistenza del paziente. Al prossimo episodio